I tempi in cui l'intera economia girava quasi esclusivamente intorno al credito bancario, grazie o per colpa della BCE, sono finiti. Il ruolo delle banche nell'erogare denaro all'economia ha subito una battuta d'arresto. Ora, con il G20 di Brisbane, è arrivata la nuova proposta del Financial Stability Board di aumentare ulteriormente le risorse che le banche devono accumulare per evitare che in caso di fallimento siano i contribuenti a farne le spese. In questo frangente una banca di credito cooperativo, e nello specifico Benebanca di Benevagenna, 15 sedi in provincia di Cuneo, 6 in provincia di Torino, va decisamente in controtendenza e in occasione del 117esimo anniversario della sua fondazione presenta le nuove iniziative che vanno proprio in questa direzione. Dopo i saluti del sindaco di Benevagenna, Claudio Ambrogio, e del sindaco di Narzole, Fiorenzo Prever, che hanno sottolineato quanto sia importante in un momento congiunturale delicato come quello attuale che gli enti e le istituzioni del territorio facciano rete, ha preso la parola il presidente di Benebanca, Pier Vittorio Vietti, che ha rivolto il suo saluto ai soci dell'istituto. Mi ha voluto questa serata per far venire a tutti che Benebanca è viva e leggete, che Benebanca sta operando sul territorio, è considerato operando a favore dei soci e a favore di tutti i clienti. Sono tante le iniziative che Benebanca ha avviato, in primis a favore dei giovani per metterli nella condizione di acquistare il bene primario, la loro prima casa, creando, come ha spiegato il direttore generale Giovanni Riccardo Massaro, un mutuo rivolto ai soci con meno di 35 anni che può essere concesso anche ai lavoratori atipici e che prevede la possibilità di sospendere le rate per due volte per sei mesi nel corso dell'ammortamento e con una durata fino a 35 anni. Può sembrare banale, ha aggiunto Giovanni Riccardo Massaro nel suo intervento, ma una durata più lunga del mutuo significa una rata più bassa e tutto ciò connesso alla possibilità di sospensione e all'analisi dei redditi derivanti dai contratti a tempo determinato significa dare una risposta concreta al bisogno dei ragazzi e di rendersi indipendenti, di acquistare una casa, di costruirsi il loro futuro. In questa difficile fase economica, inoltre, una risposta importante al disagio di molte aziende arriva da parte di Benebanca e Confartigianato Fidi Cuneo. Nel corso della serata è stato siglato infatti un importante accordo che prevede, come hanno spiegato il presidente di Confartigianato Fidi Cuneo, Giacomo Pirra, e il presidente provinciale di Confartigianato Cuneo, Domenico Massimino, in esclusiva per i soci, lo stanziamento di un plafond di 20 milioni di euro per gli anni 2014-2015 per acquisto scorte, assunzione personale, finanziamento, trattamento di fine rapporto e immobilizzazioni immateriali affinché gli artigiani possano a loro volta investire e credere nel territorio.